Hanno assaltato due stazioni di servizio, l'una di fronte all'altra, nel giro di pochi minuti e caccia i due banditi che nel pomeriggio di venerdì hanno rapinato i titolari dell'IP e dell'ESO sulla strada statale 379 nei pressi di Ostuni. I malviventi erano a bordo di una moto Honda Hornet nera, uno armato di pistola. Il primo assalto è stato compiuto nell'area di servizio IP poco prima dello svincolo per Fontanelle nei pressi di Villanova di Ostuni. Minacciandolo con l'arma, i banditi si sono fatti consegnare dal benzinaio le banconote che aveva nel marsupio. Subito dopo sono fuggiti, ma evidentemente non contenti del bottino. Hanno imboccato lo svincolo per Villanova, fatto in versione di marcia, e sono tornati sulla statale, questa volta in direzione sud. Qui c'è la stazione di servizio ESO, quasi di fronte all'IP e così, mentre le forze dell'ordine correvano dopo la prima rapina, i due ne effettuavano una seconda dall'altra parte della strada, anche qui riuscendo a prendere solo una manciata di banconote. Magro il bottino complessivo, circa 500 euro. Presso l'area di servizio IP si sono recati i carabinieri della stazione di Ostuni, mentre i poliziotti del commissariato della città bianca si sono occupati dell'assalto all'Aesso. Il 20 maggio scorso due rapine erano state effettuate in sequenza sulla stessa statale, poco più a sud, prima al distributore di carburanti Tamoil, situato nei pressi di Specchiolla, e poi presso l'area di servizio Mayenne, a pochi metri dallo svincolo per l'aeroporto di Brindisi, sempre sulla superstrada Brindisi-Bari. In quel caso però i banditi agirono a bordo di un'auto.